ok poi iniziamo a registrare questa sessione per edoardo benvenuto edoardo e ovviamente benvenuta elena grazie allora elena chiudi pure gli occhi ti faccio un'induzione classica o anche un'induzione veloce anche mi decidi se ti faccio quindi un conteggio a contare semplicemente da 10 a 1 e 3 conto non solo ti rilassi ma ti connetti a edo atto 10 non ho re 8 7 se 5 4 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. dimmi se lo vedi se si vedo ha vestito con degli abiti tipo eschi mese che mi viene incontro mi dà la mano insomma la destra ti dà l'autorizzazione a si scegliere in questo il modo in cui te la dà la mano ok bene abbiamo la sottotitazione quindi iniziamo chiedigli perché si presenta in questo modo è un ricordo di una vita passata dove lui si sentiva protetto dai pericoli esterni del mondo diciamo e quindi come se fosse un modo che lui ha trovato oggi per affrontare questa questa sessione però così è protetto si sente protetto è un uomo una donna qui un uomo non vedi un nome nabir è una bella vita questo sì sì è una vita su di è stata molto soddisfacente è stato sentito sereno poco in pericolo se non cose proprio molto futili aveva era sposato aveva tre figli e comunque era una vita molto semplice viveva proprio è andato tutto bene sì esatto dei bei figli sposati nonno è tutto tutto ok molto bene adesso iniziamo un bel viaggio alza la tua visione anche stessa si guarda tutte le vite di edoardo dall'alto questa cosa non l'abbiamo mai fatta dimmi quante sono e quali la parte subliminale di edoardo ti indica maggiormente allora sono 1385 e ne vedo 3 le illumina proprio come se le illuminasse no come dei puntini illuminati sono tre andiamo alla uno scegliela tu la uno era questa degli schienese ok la birra si è una bia si è una comfort zone la comfort zone si allora due non era quella che mi era apparsa prima quando tu parlavi appunto di un'altra vita a in parallelo c'era questa che era se allora questa vita qua lui l'ha vissuta sempre in germania ma nel medioevo ok verrà un cavaliere è un cavaliere di prima linea quindi era proprio mandato a marcello sì esatto c'era quello che si scontrava per si per primo sì esatto è resistito per un bel po di battaglie tipo però alla settima l'hanno ucciso è stato ucciso ma se come si chiamava go 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 t urh ok qual è la causa esoterica del mostrarti di questa vita su 1385 per queste tre perché questa allora la prima è quella più bella ideale esatto questa è quella più truccida invece a seconda no go t urh muore a chietà 35 perché era anche vecchio per migliorare si è la terza allora una terza anno era uno scienziato americano che faceva ricerca in una specie di zoo una roba tipo poteva essere tipo una cosa tipo jurassic park quindi dove facevano ricerca però gli animali potevano essere visitati da badie stranei era intorno al 1900 una roba del genere e perché te lo mostro è meno mostra perché sembrava andasse tutto bene un ricercatore abbastanza rinomato e poi a un certo punto è stato boicottato ricattato è stato ricattato se non avesse fatto una cosa che non era eticamente giusta quindi usare per fare delle sostanze chimiche nocive per gli animali ma per fare degli esperimenti tipo che potevano provocare la crescita di due teste cose così lui sarebbe stato licenziato in tronco la sua repito la sua reputazione sarebbe stata denigrata completamente e lui non ha accettato e quindi poi dopo ha vissuto nella povertà per il resto della vita lo vedo quasi per strada va bene chiediamo solo momentaneamente questo capitolo le vite precedenti ti faccio una domanda elena causa esoterica delle tigri bianche allora quello lì ok sono tutte le abduction sono tutte le abduction e sono i felinoidi che tutte le volte lui cerca di diciamo nel sogno cerca di scappare loro gli ricordano che comunque non lo può fare ok descrivi c1 abduction sarebbe il classico rapimento aliasi quando è stata l'ultima intericolo si 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 quel tipo lì perché poi ne vedo altre ma quel tipo lì un anno e mezzo fa ok è l'ultima abduction di qualunque tipo due mesi fa ok in occasione di aspetta vedo questa questa cosa tipo c'è stato un episodio dove lui ha avuto da dire con una persona la sera prima ha avuto un abduction la notte che stiamo parlando della signora legata alla resa esatto va bene andiamo a una ad action con in mezzo i felinoidi se non ho capito male è un abduction di prima categoria la più importante se un esatto descrivimi quando li vedi i felinoidi come li vedi allora sono ne vedo tre che coincidono con le con le tre tigri che vede lui nel sogno sono loro tre che sono i principali che lo studiano il capo si sono tutti intorno come il capo chi è delle tre allora il capo 7 mi dice dante c'è dante si presenta se c'è nome non sono hanno fatti esatto niente da ridere perché dante anche un uomo e volendo ma si presenta fa un passo avanti ma più grande e le altre due ok fammi una descrizione di come lo vedi allora come se avesse una gobba dietro come se fosse un guscio sulla schiena con sopra un mantello a un po la forma umanoide più o meno braccia gambe sempre questi esatto i piedi come si sono i piedi sanno come se avessero due grosse dita e basta il colore è proprio il pelo direttivi bianco quel bianco lì due dita per per zampa si viene il piede se invece su quelle che corrisponderebbero le mani son 33 un po più fini e lunghi tutto ricoperto di pelo bianco come si chiama questa razza di fiorinoidi e da dove viene allora è un pianeta che rispetto alla maggior parte risulta molto piccolo però rispetto alla terra è molto grande cento volte la terra si è molto lontana come si chiama allora si chiama chiedilo a lui tampa marita man rispettata ma il pianeta si chiama tamanti e questa tipologia di felinoidi come si chiama come razza se c'è un nome da mantini chiedilo a lui ma lui mi dice tamantù lui ok ti spiego lui è interferisce con edoardo se noi abbiamo la l'autorizzazione di edoardo lui è obbligato non può non può ovviamente non vuole ma non può esimersi da rispondere se le domande io non le faccio in realtà te che devi cercare una risposta nelle terre fare una fatica anche lo sforzo devi semplicemente chiedere a dante ok a grandi linee cosa fanno in questa action cosa studiano allora studiano sì praticamente loro sono intorno al lettino dove c'è edoardo ok c'è questo lettino illuminato come se riuscisse a illuminare il corpo attraverso no come se facesse una specie di radiografia istanta c'è ogni istante ok e loro valutano la differenza di vibrazione dell'anima dell'energia della di della ps ok tipo vedo che manovrano una valvola una manopola si una manopola esatto e fanno un po su un po giù e vedono la differenza e quanto riescono a succhiare a seconda della vibrazione della ps ok la parte subliminale la ps di edoardo in questo momento è dentro tutta o ce n'è solo una percentuale lì allora è come se guardasse dall'esterno questa scuola se tutta sì quindi loro cosa stanno studiando anche no che sono sì ma non pensano che ci sia una percentuale di parte subliminale esatto ma in realtà ma è solo questa daccio anche a questa situazione tutte cioè in tutte c'è la ps fuori che guarda no ce ne sono state altre le prime assolutamente erano riusciti comunque a tenere la ps dentro al corpo di edoardo e riuscivano a fare questa cosa poi in qualche modo la ps si è fatta furba tra virgolette quindi riesce a guardare dall'esterno la scena infatti per quello che poi hanno smesso si sono resi conto un certo punto che non funzionava più per quello che hanno smesso un anno e mezzo fa di fare questo tipo di abduction su eduardo e come hanno evoluto il lavoro no lo questa cosa non l'hanno più fatta ne hanno fatte altre per fare un'altra roba proprio qual è l'obiettivo nuovo è trovare a prendere dei pezzi come se nuovano a spazio si di parte subliminale si ci sono riusciti no assolutamente perché come se riuscissero a tirare via al pezzo credono di riuscire a tirare via al pezzo ma realtà si riattacca immediatamente quindi anche lì però stai a togliere dell'energia si va bene quante sono state le abduction di tutto allora di le altre quelle con i filinoidi 330 e poi queste non ne hanno fatto tante una decina in un anno e mezzo a quanto vibra eduardo 5.000 ps e p e parte teri che a parte subliminale sono in equilibrio no no la p e 70 la ps 30 ok analizziamo il corpo emozionale di eduardo ok emozioni alta frequenza bassa frequenza ci interessa bassa frequenza mi se ne vedi come le vedi dove le vedi allora ne ha tante direi sei a livello del bacino e sono 66 emozioni sì se emozioni a bassa frequenza a livello del bacino del bacino del bacino allora c'è un po una rabbia vedo rabbia che però è assopita nel senso non non gli viene permesso di essere vissuta ok poi c'è la paura i sensi di colpa un po di senso di solitudine e la tristezza quella più grande la paura che colore un verde scuro verde scuro scuro smeraldo scuro hai detto che ce ne sono sei mi so ma che ne dette 5 sì no sono cinque perché una più alta potrebbe essere a livello del plesso solare quale in sicurezza incertezza non decisione non so come dire il lavoro lo facciamo alla fine adesso siamo soltanto in fase di lavoro di analisi causa esoterica dei problemi a livello lavorativo di eduardo ok è molto chiaro ci sono questi questo gruppo di sono gli stessi filinoidi di che gli fanno che gli facevano le abduction ok che l'anno lo devono trattenere dove perché se lui riuscisse a fare a creare un suo lavoro particolare con la psicologia l'arte andrebbe troppo bene per le persone le vera aiuterebbe troppe persone essere consapevoli a livello animico a livello dps ok quindi non può farlo quindi lo trattengono lo trattengono e lo fanno attraverso le persone familiari e le persone che gli girano intorno del lavoro in maniera tale che lui si sente appunto in colpa e rimanga lì perché sennò si allontanerebbe troppo e non serve più a loro disposizione per esempio una collaborazione con una coppia nell'ambito della moda andata poi a male praticamente lavorato gratis a una causa esoterica allora praticamente sono questi filinoidi sono riusciti a entrare nella queste persone in questa coppia all'ultimo e sono riusciti a far cambiare tutta tutta l'anno collaborato con l'interferenza di questo esatto idem l'altra coppia sempre lo stesso schema esistono degli come fanno come riescono esistono degli impianti eterici che servono ad attivare determinate e determinati eventi o determinati comportamenti in edoardo esistono degli impianti no gli impianti che vedo che che possono servire comunque rispetto alla parte lavorativa però è sulla parte economica che non riesce mai arrivare ecco li riescono a controllare questa cosa dove sono e come sono fatti allora due nella nella testa sono due due piatti due piattelle sembra un tipo di chip rischi di metallo no più quadrati porcic a livello delle due tempie e poi due sulla spalla come se creassero riuscissero a creare un'area tra questi impianti e questa cosa fa sì che lui non non riesce a guadagnare abbastanza ok guarda di tutti gli impianti messi da chiunque non devono stare tutto quello che non deve stare lì sono questi due le tempie due alle spalle e poi ce ne sono quattro rotondi due sui piedi in mezzo ai piedi e due sulle ginocchia c'è qualcos'altro a livello colonna vertebrale genitali di qualcosa no 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 livello dell'addome più o meno sul livello dei reni sempre due rimettono sempre a pari in lui non so basta ok chiamiamo adesso tutti i responsabili tutte le entità di edoardo chi sia quelle che hanno messo gli impianti sia ovviamente i felinoidi che abbiamo già visto dal primo almeno importante al più importante tutti in fila in ordine di gerarchia ok ok chi entra ci sono cinque rettiliani sono quelli che controllano che sono gli addetti a controllare gli impianti poi a volte li hanno messi controlli che li controllano li hanno messi i felinoidi sempre loro poi ci sono ci sono otto e dl però sì 33 all'interno e 5 che gli ruotano intorno sono quelli che sono responsabili della sua insicurezza ok poi e poi ci sono i tre felinoidi con dante adulti in fondo adesso trattiamo gli edl gli esseri di luce i grandi ingannatori se sali ma nei capi dei felinoidi chiama il capo dei felinoidi ok se si è arrivato chi è mi dice odino c'è un capo di odino mi viene lucas un capo di lucas no vedo no ok causa esoterica dei problemi in ambito artistico appunto è questa cosa tutto quello che si sicuro che abbiamo già detto riguardo a farlo insieme al lo devono bloccare in qualche modo perché sarebbe troppo potente quindi arte psicologia e lavoro sono mischiate sono sette un blocco in comune perché se procedessero in maniera sinergica non sarebbe un grosso problema perché se avevano una causa esoterica dei problemi nella sfera sentimentale allora senso di colpa frustrazione blocchi visto che vedo che non ci sono impianti a livello dei genitali come normalmente ci sono negli uomini no 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 allora mi viene che c'è qualcosa collegato alla sorella in una vita passata con la vita con la vita passata ok ok ci siamo all'epoca più o meno della seconda guerra mondiale e lui aveva una storia con questa donna aveva promesso questa donna che l'avrebbe sposata poi in realtà ha scoperto delle cose riguardo alla famiglia che non erano che a lui non andavano e di cui lei era conoscenza e di cui non ne aveva mai parlato e quindi all'ultimo si è rifiutato di che tipo queste cose a tipo delle truffe o aspetta è l'onore di questa famiglia di questa donna non era pulito esatto esatto perché faceva dei giri lo ski a livello economico trafficava armi cose così e quindi a lui non stava bene e quindi si è rifiutato di all'ultimo di sposarla e come se avessero mandato una maledizione da lì in poi a pezzo occhi la sorella dell'epoca si è la donna che era la sua donna che è sua sorella oggi si ma infatti non è emerso nei punti di eduardo ma in realtà che ne so conoscenza oggi eduardo noi possiamo lavorare chiaramente solo su di lui è oggetto di fattura maledizioni lavori energetici chiamiamoli così se c'è ancora questa cosa qua che è stata ripetuta è stata ripetuta in questa vita e dov'è questa come la credo come la possiamo chiamare lena fattura sì 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 fattura maledizione come se avessero messo un una copertura di blocco energetico sopra di lui in maniera tale che non funzioni nessuna relazione ma questo chi l'ha fatto è allora chiaramente responsabile ok arrivato è arrivato è un ma prima non si era presentato però mannaggia è arrivato è un enorme falco ok ed è lo stesso è lo stesso che c'era che agiva nella vita di durante la seconda guerra mondiale sulla promessa sposa eduardo ma il falco è legato alla sposa di eduardo ovvero la sorella di oggi o anche a eduardo no il falco e fa solo questa cosa qua ok quindi diceva che interferisce eduardo ma è della sorella esatto esatto sì sì da questo che non si è presentato prima perché è di riflesso bene come vedi chiama la fattura che si presenti la fattura come la vedi in eterico allora in la vedo come una donna tutta fascinosa con un vestito sempre più o meno di quell'epoca lì nell'epoca anni tra i 30 e 40 tra i 30 e 50 più o meno quei vestiti lì tutta elegante tutta la fascinosa con questo specie di scudo sopra la testa che tiene con le due mani che è lo scudo energetico che che tiene sopra eduardo c'è oggi questa donna quindi questa fattura questo specudo sulla testa sì 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 c'era ancora se è iniziata in quella vita la fattura tra virgolette si è iniziata lì poi in qualche modo in questa vita non si era non si era c'è lui non è nato con questa fattura già ma attraverso la sorella sono riusciti a rimettergliela si è riattivata eduardo a e oggetto anche di altre fatture che colpiscono tutta la sua famiglia no io vedo questa va bene causa esoterica se c'è della sua allergia alla polvere presto allora l'allergia avevo già vista prima quando abbiamo elencato i punti il fratello che è morto come se avesse lasciato in casa non so se abitano in casa non so se abitano nella stessa casa comunque come se avesse lasciato questo ricordo di soffocamento quando è stato butta quando è stato praticamente seppolto insieme agli altri ok c'è rimasto la sua parte subliminale a questo ricordo di soffocamento e quindi è rimane è rimasto nel loro indiente ok se l'allergia legata a si porta e allora chiamiamolo non diciamo nel nome perché chiamiamo il fratello il primo genito morto a due giorni se prima domanda è incarnato o è un disincarnato no disincarnato è attaccato alla terra se è attaccato a una casa se ok chiedo a edoardo di farmi un gesto con la testa sì o no questa è la casa in cui è nato edoardo cioè nel senso è arrivato doveva arrivare edoardo perché ne posso ospedale a un'altra è legato all'altra casa la casa del paese sì 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 esatto attuale del paese dove si ora dove in che punto tutta la casa si si rigira gira tra tre stanze allora la camera la cucina il bagno ok qual è la causa esoterica della sua morte e anche la causa fisica già che ci sei visto che puoi andare a vedere che succede è stato trascurato ed è morto la soffocato mi viene un po può essere un po c come se avesse appena mangiato soffocato ecco probabilmente era girato male soffocato perché ha vomitato ecco è soffocato con le sue forze ok vai al momento in cui è successo e in cui è arrivato qualcuno che se n'è accorto come se tu fossi una spia una telecamera cosa dicono allora c'è questa infermiera ostetrica che doveva badare ai bambini che se ne accorge è iniziato a urlare sono arrivati altri tre persone di cui altre due infermiere e un medico e la prima cosa che il medico ha fatto far sparire il corpo subito e dopo però questa infermiera ha avuto delle conseguenze niente di che se sono a sospensione per un po di tempo e basta però la prima cosa che hanno fatto è quella proprio dove l'hanno messo il corpo allora vedo un buco nella terra quadrato dove c'erano altri 56 colpi di bimbi che riaprono si chiudono l'hanno messo non è passato da una morgue no l'hanno fatto lui sparire sottoterra ok alle variette rivo entrate sa queste cose sapevo era lì ok vediamo a livello eterico che succede nel momento in cui lo spirito e anche parte animica esce dal corpo che fa doveva come se andasse a chiedere aiuto ma se si vede fuori e dice oddio qua c'è qualcosa che non su che non quadra ha fatto un giro nel reparto quel momento lì non è arrivato nessuno sono passati mezz'ora circa prima che arrivasse qualcuno che si accorgesse che il bambino era morto nel momento in cui la parte lo spirito e la parte animica hanno fatto questa cosa poi è come se si fossero rilassati è stato più un passaggio momento di panico per panico tra virgolette di cambiamento energetico e poi dopo nella nuova situazione comunque a livello di spirito anima non hanno problemi e quindi ok dalla parte subliminale di questo bambino di eduardo a perché ha scelto queste esperienze che non sono per provare l'esperienza di morire dopo due giorni perché vi stanno i miei trascorsi ci sta sì 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 allora c'è quella parte lì però è come se volesse non era solo per morire ma era per il morire e rimanere vedere cosa succede intorno comunque il motivo per cui è ancora qua ok nella famiglia di eduardo quella in vita a inci sta incidendo questo disincarnato portiamo da eduardo che è quello che ci interessa di più interagisce il maschile con eduardo non tanto perché vede che guardo comunque fa le cose un po a sé un po fuori dalla la sorella da nana invece sulla sorella e genitori si sulla sorella inter interagisce molto ecco è come se lei sentisse la presenza e quindi come se ecco è collegato al fatto che lei sente pensa di che ci sia qualcuno che la controlli come se lo sentisse la madre la madre il padre si e li mette in agitazione come se fossero sempre elettrici che devono far c'è quella ansia che c'è sempre vada va bene il fratello vuole lasciare un messaggio da eduardo perché è l'ultima occasione per lasciarlo questo mi diverte dice mi diverto a a vedere cosa succede con me intorno ok io adesso per chiudere la scena e chiudere in una sfera rossa tutte le informazioni delle mie sessioni la offro al fratello di eduardo la accetta 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 la presa in mano la guarda e dice si potrebbe essere una cosa interessante se vuole può aprirla può guardare cosa c'è dentro sono solo informazioni a meno ad acquistare informazioni non si perde nulla ma si guadagna molto ma insieme a si viene preferito in nessun modo hai filato la testa dentro e poi l'ha ritirata fuori ok vuole ancora rimanere a vedere cosa fa cosa succede per il panendo qui attaccato alla terra adesso a lui mi dice un po indeciso perché come se nella ste come se la sfera lo incuriosisse l'ha presa tutta l'informazione della sfera ma l'ha solo guardata e ce l'ha in mano è ancora no come vuole agire con la consapevolezza che comunque visto che è una delle cause per esempio di interferenza se vogliamo la madre del padre e soprattutto della sorella siccome se se facesse apposta tenerci un po sulle spine ecco perché dice vabbè lì ho visto tutto non ho bisogno di rimanere ancora qua va bene allora che si apra un portale dove c'è un posto in cui lui in ha già deciso tutto è fatto ha deciso anche questo giorno in cui la festa sarebbe finita tra virgolette la festa la festa noiosa perché c'è un posto in cui lui ha già deciso di andare vada a vedere cosa c'è lì dentro poi torna indietro perché nessuno di andare in ordine e quando torna indietro se effettivamente vuole passare lì oppure no sì sì allora è andato a vedere lo riconosce perché era come se lui sapesse che appunto quel posto c'era e dici sì sì ci voglio andare con la sfera benissimo che cosa è questo posto come lo vedi come se fosse c'è lui lo vede come se fosse casa sua dove c'è una pace incredibile silenzio e dove lui può stare nel posto che ha deciso dove stare c'è il suo posto ideale e poi decidere che cosa fare esatto è già lì lì con un piede sia un piede no che diceva la vado posso andare può andare se quando si stacca da tutto quello che è terreno persone ambienti luoghi cose animali vegetali tutto si deve staccare energeticamente da tutto e allora quel punto inevitabilmente può andare se dove vuole ho visto proprio il taglio netto energetico quando in tutto dalla sorella padre ma verrà tutto 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 proprio casa ok allora lo salutiamo vuole lasciare un altro messaggio ora che è un po diverso di dicendo a tutto bene non è che siamo un'autorità lui nel punto che può dire andrà tutto bene no perché voglia li danno al tese incarnato un'importanza che poi di fatto non ha funzionato non è così consapevole bene lo salutiamo chiudiamo il portale ok dato causa esoterica dei sogni di labirinti sono le sono le l'altro tipo di abduction esatto e sono tutte queste stanze di laboratori dove in ogni stanza c'è una c'è una persona diversa dove cercano di tirare via questi pezzi di ps ma non riescono perché poi si aggancia assolutamente immediatamente qui ok eduardo a un clone o dei cloni 1 se ha proprio solo un pochino del suo dna ma proprio poco poco vedo lì allora lo tengono dove fanno queste 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 abduction le ultime quelle con tante stanze ed è lei pronto nel caso in cui loro riuscissero a trattenere un pezzo di anima è pronto ad essere mandato al posto di eduardo poi lo tratterrebbero lì quindi è simile o uguale simile uguale uguale a livello fisico l'hanno fatto uguale l'hanno creato con il dna eterico di eduardo sì sì solo una parte però va bene chiamiamo gli otto e dl 3 fuori 5 seguita tra dentro e ci fuori l'insicurezza i cinque fuori sono sempre rimasti fuori poi questa va ne vengono adesso ci sono una volta erano due volte uno volte anche sette ok andiamo indietro nel tempo andiamo alla nascita eduardo dimmi se nasce pulito da interferenze e dai dl partiamo dagli riel nasce con due che però girano intorno secondo me a dove vengono vengono sono stati mandati dai celinoidi per controllare già che lui lo tenevano già già controllato da lì internamente se estremamente sì sì perché non non c'era stata ancora nessuna azione che poteva ok vengono lì aveva nella vita precedente eduardo no quelli lì no quindi sono che sono legati alla madre sono legati alla sorella allora nel momento in cui lui è nato inizia un nuovo progetto sì esatto e in quel momento lì la sorella le interferenze della sorella si sono erano in collegamento coi due dl erano interferenze diverse da quelle che poi non era non c'entrava niente con la donna del che doveva sposare nell'altra vita interferenze diverse diciamo che ci sono state delle collaborazioni queste sono rare ma che capitano se non ho le sue interferenze sulla base di quello che è un pretesto che è una vita precedente insieme sono successe delle cose non ti ho sposato perché la famiglia truffaldina ci possono essere dei legami energetici che si ripercuotono in vite successive va bene quando arriva a 3 eduardo arriva a tre o più edl oltre questi due a che età sette anni ne arrivano altri due quindi 4 e 1 dentro uno dentro perché a sette anni è come se loro si fossero accorti che a scuola già faceva delle cose che l'avrebbero potuto portare a fare delle cose molto particolari e molto forti molto potenti era bravo se disegnava sì 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 forse può essere già del disegno sì legato sì e qui morini quindi sono a 4 sempre dovevo pari poi quale al prossimo stato ma poi a 15 anni uno dentro e uno fuori 6 e poi dai 27 anni in poi sono 8 ok 3 dentro e cinque cosa fanno i tre dove sono normalmente gli edl si spostano però hanno delle aree gli effetti si hanno hanno come se si spostano lungo una linea in mezzo al corpo sono sempre qua su questa linea qua erano su e giù cioè si spostano ma ma adesso ce ne ha uno a livello dell'addome uno a livello del plesso solare uno a livello del cuore ok chi è il più importante faccio un posto avanti quello sul plesso solare che grado a convenzione 13 abbiamo stabilito una lettera è un numero la lettera più importante più vicino alla z è più il grado è alto quindi a un grado alto questo ok non ti chiedo oggi di canalizzare un essere ma chiedi cosa ci fa lì cosa ci fa qui e cosa pensa di edoardo a ecco lui è proprio quello che comanda il suo e sul senso di insicurezza e di incertezza e è lì perché deve fargli credere che non ce la può fare ok cosa pensa di edoardo definisca edoardo con tre aggettivi potente creativo illuminante ok definisca edoardo con tre aggettivi in alla luce del fatto che non si è accorto di loro ingenuo mi viene superficiale poi piatto ma nel senso ci trovi una tua elena una provocazione in questi sì assolutamente come lo senti come lo vedi quello vedi esteriormente lo vedo piccolo devo dire che è piccolo a una forma sia è una specie di appare a me un po buffo perché come una specie di folletto con delle ali scuro e luminoso sono le ali luminose e lui è un po un po scuro un grigio non troppo scuro ma c'è più sullo scuro che sul chiaro ha un nome uscidiamo nei feri lui nel ferro mi conosce certo che si sa dove andrà adesso si è detto che stufo che tutte le volte fai queste cose qua ha cercato di impedire questa giornata ha cercato di impedirla un po con me poi dice anche qualcosa anche con te non so cosa io ben chiaro cosa ha provato a fare niente di che sono accorta subito e anche con te ho cercato di farti ritardare in qualche maniera in realtà l'abbiamo anticipato si si è anche anticipato questa giornata noi le nostre ps le nostre due ps va bene e elena se ti dico sabotage cosa mi dici allora sempre i felinoidi che hanno comandato che comandano questi otto e dl ok e rettiliani che comunque comandano che controllano gli impianti perché assolutamente eduardo da tenere d'occhio perché se solo lui riesce a fare quello che fa è un disastro per lo perché perché è molto potente guarda un futuro possibile cui eduardo privo di interferenza come sarà tra poco se fa quello che è venuto a fare assolutamente vedo eduardo che fa quello che fa dove riuscirà benissimo a fare quello che fa vedo tante persone che ne terranno vantaggio a livello di consapevolezza di evoluzione e lo vedo luminosissimo in questa in una bolla dove le interferenze arrivano ma rimbalzano non riescono proprio entrare ok adesso che il banco degli imputati la parte subliminale la parte eterica di elevato che cosa facciamo cosa fanno cosa dicono la parte subliminale arriva la vedo tutto così però alla coda è tipo una ragazzina di 11 12 anni che però in più alla coda tutta bassa tutta cura coda si è come se avesse la coda alla coda i capelli con la coda coda no tipo una coda proprio la coda tra le gambe ecco diciamo che rappresenta quella parte lì è come quando un cane esatto esatto arriva con la madre la vedi come una donna o una ragazzina di 11 12 anni elettrica la parte eterica materica un po più frivola arriva svolazzando niente contenta di venire a parlare con noi ok andiamo elena al cluster insieme alla parte eterica e subliminale se dimmi se vedi i patti contratti stabiliti da edoardo per le sue 1385 vite se c'è proprio tutto come se fosse una scrivania rotonda dove ci sono tutti i contratti messi ma sono pigne enormi sono proprio tanto sono fogli ieri fogli se si è cerchiamo quello relativo a questa vita non riuscire nel lavoro e nella sfera economica dove sono più o meno in mezzo davanti in mezzo chiedi alla parte subliminale ed eterica di sfilarlo di elencare non dico di leggerlo ma di elencare nelle parti fondamentali allora ci sono dei tipo dei titoli ci sono dei titoli rimanere solo affermato di rimanere solo perché almeno non riesce a essere indipendente e non riesce a creare quello che vorrebbe creare è il in cambio di aspetta è qua questo è quello è il gioco che ha deciso di fare appunto con i felinoidi in cambio è come se l'avessero un po truffato ma in cambio di qui c'è scritto in cambio di di energia e di un tetto sopra la testa però in realtà non è che di una confronto se diciamo tanto bene ce ne sono tanti 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 altri qui nel cluster ci sono i suoi contratti ma ci sono anche le persone alcune delle persone che ha conosciuto in questa vita ci sono alcuni suoi amine non andiamo nei dettagli comunque alcuni suoi amici alcuni o tutti i suoi familiari sì sì c'è la sorella e i suoi genitori ok da un suo amico in particolare no c'è quella signora con cui ho litigato due mesi fa vabbè diciamo che il cluster non appartenevano appartenevano classe non significa assolutamente nulla fatti gli attori di una compagnia che fanno tante rappresentazioni completamente diverse quindi una volta un uno di questi attori fa il padre è una volta fa la figlia c'è la tua va bene cosa vuole fare edoardo di tutti questi contratti ah via tutto non ha dubbi insegnagli ad aprire un portale io l'ho chiamato portale definitivo ok dentro si può mettere ogni forma energetica atto un'emozione un impianto un'entità è tutta energia dentro quella portale definitivo resta in maniera definitiva quella forma energetica non può tornare indietro non si distrugge perché l'energia non si distrugge si può scomporre e queste sono le caratteristiche di quel portale all'infinito in parti sempre più piccole all'infinito quest'ora edoardo lo sa può aprire un portale di questo tip mette una parte o tutti o nessuno i conti tra fatti se sì sì no certo l'ha fatto lo sta aprendo l'ha aperto e ci sta in fila sta spingendo proprio dentro tutta la scrivania con tutti i contratti benissimo accertiamoci che ci siano tutti per la scrivania quando non c'è più niente ne lo dici ok sono cilato tutto chiudiamolo ok e andiamo elena all'avatar dimmi cosa vedi allora vedo questo cerchio di posti di postazioni di computer fatto così si è come se fosse ma come se fossero tante scrivanie che fanno un enorme cerchio il computer sono verso l'esterno cioè le postazioni dove sono seduti tutti gli avatar sono verso l'esterno quindi dentro come se ci fosse luotto vuoltre quanti sono questi avatar e cosa li accomuna sono miliardi ok non sono ok non importa non li accomuna nulla vai a quello di edoardo se sono davanti e come provvedì allora vedo lì che chi che cerca è molto frenetico nel come se dovesse modificare come se avesse perso il controllo ok la parte teorica e la parte subilionale sono qui si sono di fianco a me che fanno guardano non devono guardare devono agire cioè lo dico lo dico a loro questo certo di agire l'avatar si muovere l'esterno etico lo devono bloccare si infatti adesso appena tu l'hai detto il loro lo stanno prendendo di peso e lo stanno togliendo dalla sedia portale definitivo e via dentro è finito dentro hanno proprio lanciato ci stanno lanciando anche il computer la serie ho fatto tutta la postazione loro sapevano di questo avatar sì perché non l'hanno fatto prima e non l'hanno fatto da soli vogliono vedere l'effetto che fa questa è la creazione fallata il motivo per cui sia necessario a fare una sessione di ipnosi a quattro gatti perché sono totale sono quattro gatti per arrivare a questo tipo di risultato bene elena torniamo a noi dimmi se ci sono interferenze selenoidi rettili e dl popolazione di tamanti del penetrati amata mantù ci sono ancora se non li abbiamo mandati via mi sembrano no però se si vanno dire senza contratti non so che cosa ci possa essere non dovrebbe esserci niente certo come se ci fosse una fila è come se fossero sei i soldatini con cui giocano i bambini ma immobili come se ci fosse il ricordo di queste forme inattivi altissimi diciamo ad eduardo di aprire un portale definitivo e mettere questi gusci uomini ecco esatto per eliminarli tutti ok ma adesso non c'è più niente ci sono ancora impianti ma quelli c'è prima essere di luce quel pone no non è un vento come il corpo emozionale di eduardo come lo vedi allora adesso lo vedo che manara come raggi di energia luminosa come se fosse un fiore come le cinque emozioni negative sono ancora lì no 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 ci sono delle tracce ma non deve raccogliere niente energia sono andate con l'avatar lui sì secondo c'erano i contratti c'erano ancora con l'avatar sono andati via tutte le emozioni sono le erano rimaste solo questi gusci di solo degli esseri e basta va bene le 1385 vite procedimenti parallele sono ancora lì no sono cambiati il numero se quante sono 728 così tante sono diminuite quali sono state eliminate le più importanti e le meno importanti sono state eliminate tutte quelle che erano collegate alle interferenze che aveva qua c'è quella stessa tipologia di interferenze ok la birra l'eschi mese esiste ancora ma no la regia li sono andati perché tre sono andate ok quella con la sorella che era la promessa sposa via 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 andata anche il cavaliere ok vibrazione a 325 mila inizio a quanto è adesso 320 mila ok ps no p e ps rispettivamente 70 30 adesso 45 la ps e 55 la pie ok ci sarà un giorno da adesso in poi nel futuro in cui sarà più o meno 50 50 49 50 sì 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 a breve due o tre giorni ok c'è un messaggio che edoardo vuole lasciarsi siamo pronti a creare il tuo sogno basta se come lo vedi la gente finale di edoardo non ho capito scusa come video come lo vedi come lo vedi in generale da lo vedo molto carico 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 positivamente cioè non ha più prima vedevo che aveva un po di cali energetici stanchezza adesso invece non ha la stanchezza e vedo proprio che allora si è tolto la protezione che aveva da schienese come se fosse un corridore pronto ad andare a fare a creare lo scudo che rappresentava la fattura esiste ancora no 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 c'è finito le abduction sono sparite ok una cosa di cui non abbiamo parlato ma di cui io non mi dimentico ed è un nuovo piccolo test per te elena sono gli ultimi due disincarnati chiamiamo i due nonni marito e moglie materni o paterni materni a termini ok tutte e due mancati di tempo fa dimmi se arrivano si arriva arrivano arrivano come se fosse come come se fossero sun tapirulani per mano uno davanti uno dietro o una mano l'altro uno di fianco all'altro e dice noi non stati incarnati non ok elena è caduta la connessione tu si sento male ancora si sento malissimo ti faccio un piccolo conteggio sì sì ti sento non ti sento lucio conto da 5 a 1 mi senti male se adesso si assiti si aspettava un attimo adesso mi senti di questa caduta c'è qualcosa che stiamo facendo troppo la fastidio proprio va bene dai le informazioni ai nonni come sempre se sono legati alla terra si stacchino se ok portale e via se uno dei due o tutti e due venne lasciare un messaggio questa è l'occasione per farlo ok tu stai tranquillo e tu non c'entri niente e noi siamo sereni e ora siamo pronti andare chi lo dice il nonno adesso come vedi la consapevolezza dei nonni in generale lì la vedo molto alta sì 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 sono rimasti un po per perché la sorella di edoardo come se sentissero che lei avesse bisogno che loro rimanessero ma in realtà ora sono pronti ad andare va bene e tu sei pronta a tornare elena bene allora disconnetti ti da tutto e tutti e noi torniamo